Bene ragazzi, allora vi spiego la parte di grammatica dell'unità 10, iniziando dal présent continu. Vi faccio vedere il video che il libro vi presenta e poi vi faccio vedere uno schema che ho creato per voi. Le present continu. In francese, il present continu indica un'azione in fase di svolgimento. Si costruisce con être en train de, d'apostrofe, seguito da infinito. Je suis en train de téléphoner. Nous sommes en train d'étudier. Ecco, quindi present continu indica un'azione in corso di svolgimento, corrisponde per capirlo meglio al present continu in inglese e la frase indica, quindi per esempio questa frase significa io sto telefonando, noi stiamo studiando. Attenzione perché la struttura è totalmente diversa dall'italiano. Vedete che io sto telefonando, il nostro telefonando che è un gerundio in francese praticamente viene tradotto da un infinito. Io sto studiando e qui abbiamo étudier che è un verbo all'infinito. Ok? Quindi bisogna lavorare su una struttura che è la costruzione che vedete qui, che non ha nulla a che vedere con quella italiana. Ok? E quindi questa struttura è la seguente. Être en train de, oppure d'apostrofe, più il verbo all'infinito. Ok? Ve lo faccio vedere meglio in uno schema che ho preparato per voi. Ok, questo è lo schema del present continu. E come abbiamo, come vi ho appena detto, abbiamo bisogno di alcune strutture fisse che sono le seguenti. Quindi abbiamo un soggetto, ok? Il verbo être coniugato al presente, poi abbiamo questa struttura che non cambierà mai, en train de, oppure d'apostrofe. E poi abbiamo il verbo all'infinito. Quindi quando io voglio costruire un present continu mi devo ricollegare a questo schema. Devo averlo chiaro nella mia mente. Ok? Queste tre parti praticamente sono molto molto semplici. Una, due e tre, perché questo è il verbo essere. Scusate, questo è il pronome personale soggetto. Quindi ad ogni pronome personale soggetto ci metto la sua forma corretta del presente indicativo del verbo essere e non posso non conoscerlo. Assolutamente. Quindi questo è anche uno schema che mi aiuta a ripassarlo se mi sfugge qualche voce. En train de o di apostrofo e la struttura fissa, l'unica cosa che varierà ogni volta è il verbo all'infinito, che esprime l'azione del momento. Quindi in questa frase io sto dicendo, je suis en train de faire, significa io sto facendo. Tu es en train d'aller, tu stai andando. Il est en train de manger, lui sta mangiando. Nous sommes en train d'écouter, noi stiamo ascoltando. Quindi il significato è proprio dato dal verbo all'infinito. Vos êtes en train de lire, voi state leggendo. E infine, ils sont en train d'écrire, essi stanno scrivendo. Ok? Quindi memorizzate bene questo schema perché è così che si forma un present continuo. Non ci sono altri modi. Adesso andiamo, torniamo sul nostro libro, vi faccio vedere gli esercizi che potete iniziare a fare da subito per esercitarvi. Un pochettino, quindi il 5 e il 6. Potete visualizzarli e farli direttamente sul vostro quaderno. E poi andiamo a vedere invece gli avverbi interrogativi. Allora, questa è una regola abbastanza facile e molto lessicale, cioè sono più che altro le parole da imparare, le conosciamo quasi tutte, o credo proprio tutte. Si usano appunto prima di fare una domanda. U, che significa dove. Con, che significa quando. Combien, che conoscete bene, significa quanto. Comment, per dire come può qua, invece per fare la domanda e chiedere il perché. U, tu abit, il nostro U lo possiamo mettere anche alla fine. Tu abit, U. Se metto, se faccio una domanda con esc, ecco infatti è scritto qui, la forma sarà questa. U, messo sempre all'inizio, esc, tu abit, ok? Anche quand si mette all'inizio, quand il arrive, oppure il arrive quand. Se voglio fare la domanda con esc, dirò quand'esco il arrive. Combien s'accute oppure s'accute combien? Comment tu t'appelles oppure tu t'appelles comment? Pourquoi è l'unico che si mette solo all'inizio? Pourquoi il parle bien al non? Ok? Quindi questa è una regola abbastanza facile. Con l'inversione la frase diventerebbe per esempio quella di comment, diventerebbe comment s'appelles-t'il, ma questa è la regola dell'inversione che abbiamo visto in precedenza, quindi non è una cosa nuova. Ok, gli esercizi, l'esercizio anzi, anzi no, gli esercizi che potete svolgere per esercitarvi sono il 7 e l'8 e invece nella pagina successiva andiamo a vedere un verbo che è il verbo vendre, ok? Quindi il verbo vendre è un verbo che finisce in RE, quindi è un verbo del terzo gruppo, un verbo irregolare, pertanto le desinenze saranno s, s, ecco, di solito qui ci starebbe una t, s, s, t, on, se, z. Questa t non la mettiamo perché il verbo finisce con una di già nella radice, vendre e poi r, ok? Quindi quando c'è una di prima della desinenza finale, allora avevamo già incontrato nel verbo prendre, ecco che la desinenza di terza persona t cade, ok? Quindi non c'è una desinenza. Per il resto questo verbo è facilissimo perché sembra quasi essere un verbo regolare, guardate come la radice vend, scritto v, n, d, si mantiene inalterata in tutta la connessione, quindi un verbo facilissimo. Come vendre si coniugano i verbi attendre, quindi anche attendre si coniugherà allo stesso modo, prendo questa radice attendre e la utilizzo in tutta la coniugazione con queste desinenze senza la t. Rendre, attendre significa aspettare, rendre significa rendere, consegnare, descendre che significa scendere, vi faccio vedere le radici, ovviamente la radice è sempre facile da trovare, basta togliere la desinenza re. Entendre che significa sentire, ascoltare, ascoltare, sentire. Pretendre, facile la traduzione, confondre, anche questa, la traduzione è molto facile. Anche qui esercizi per esercitarvi un po', per allenarvi. Quindi numero 2, numero 3, numero 4, completate questa email e poi abbiamo il numero 5 e il numero 6 che invece va svolto osservando le immagini. Quindi osserva le immagini e completa le frasi con i verbi dati attendre, vendre, rendre e entendre e le frasi sono giù. Ok. A pagina 105 ci sono altri esercizi. Pagina 105 potete esercitarvi sia con il présent continué, con questi due esercizi, anche qui con il présent continué, con gli avverbi interrogativi e con il verbo vendre e i suoi derivati. Per il momento è tutto. Ci sentiamo, ci vediamo alla prossima video-lezione. Grazie.